In un milanese era un centro commerciale e incontrava uno a Catanzaro e diceva, senti, mi puoi dare per piacere una mano in questo centro commerciale ho perso mia moglie, non la posso trovare se mi aiuti... sa come ti aiuto? pure una moglie ma prendeva una moglie ma ti aiuta a te e io facciamo prima la mia, no? mi dice, no dai, ci aiutiamo a Vicenda tu vai di là, io vado di qua tu mi dici com'è la tua, io ti dico com'è la mia vabbò, dimmi com'è la tua se la mia è alta 1,90 ha i capelli neri ti ha la faccia un po' a Monica Bellucci ha gli occhi azzurri se non porta una quarta taglia 44, la minigonna le calzarete, i tacchi a spillo ci sei la tua se la stacuterà la mia ma la tua che è meglio?